Sono le 10.20, l'Ottarroli è stato requisito e arrivano i primi richiedenti asilo, i primi profughi. Il signor Fogli non vuole assolutamente cedere l'hotel. Sul posto, polizia, carabinieri, guardi di finanza. Fogli sta lanciando delle sedie, non vuole assolutamente cedere l'hotel. Il proprietario dell'hotel si è barricato, non vuole fare entrare i profughi. Anche la figlia si è barricata, una situazione veramente molto, molto tesa. I proprietari non vogliono cedere l'hotel. Sono entrati e hanno fatto un blitz di dietro. Chi sono loro? Carabinieri, questura, prefettura, tutti. Non eravate stati avvertiti? No, assolutamente no. Cosa vi hanno detto? Che l'hotel è requisito. Quello lo sapevo perché avevo i documenti. Quindi la struttura è stata interamente requisita? Gli ospiti che erano dentro? Ah, non lo so, devono ancora decidere che cosa fare. Dopodiché sono arrivati i profughi. Ma io penso che fossero già qua, non lo so di preciso. Però io sono convinto che fossero già qua. Quanti ne sono arrivati? 15. E dove sono stati alloggiati? Ah, qui sono stati alloggiati, sono pronti le camere e hanno messo a porto le cose. E' vero che non ha voluto dare le chiavi ai profughi? E' vero. E quindi cosa è successo? Come hanno fatto le porte? E sono entrati dalla porta posteriore di servizio, sono entrati e hanno aperto le porte laterali. Che sono quelle di sicurezza. E per accedere alle camere? Avete lasciato le porte? Abbiamo lasciato perché, no, io non volevo dare le chiavi. I signori dalla prefettura hanno chiamato i pompieri pronti a scardinare le chiavi con i mezzi suoi. E a quel punto ha dovuto scegliere? Eh, cavolo va. Cosa pensate di fare adesso? Io sono già pronto per il TAR. Fino a una settimana fa qui c'era mobilitazione, si parlava di barricate, Catena. Adesso però lei qua mi sembra abbastanza solo. Adesso mi sono trovato da solo, ma non faccio una colpa a nessuno. E' stato soltanto perché nessuno sapeva niente. Voi avevate parlato col prefetto? Siamo automattivi. Le avevamo fatto un'offerta. Che se lui requisiva, toglieva la requisizione, noi le davamo le tre stanze che le servivano. Ed erano soltanto per venti giorni, così ti è stato detto. Però a questo punto non so niente, Vado. Da chi vi è stato detto? Dalla cooperativa. La cooperativa si è presentata oggi? No, no, la cooperativa è là dentro. Sono quelli inquisiti di Padova. Quindi loro stanno prendendo possesso. Hanno già preso il possesso.